E noi appunto torniamo in diretta dalla Leopolda, ci hai anticipato Claudia che è una seconda giornata dedicata al Chianti Classico, un boom di presenze ma ci hai annunciato anche novità e curiosità, a te. Sì Michela, buongiorno, allora le novità e le curiosità ce le diranno i miei ospiti che sono Carlo Ottagori che è il direttore del consorzio vino Chianti Classico e Alessandro Masnagheti che è un cartografo del vino. Allora io inizierei proprio con il direttore, direttore, grandi numeri ieri ma ci sono grandi numeri anche per il Chianti Classico e le novità sono importanti? Sì assolutamente, è una manifestazione da grandi numeri, 3.000 accrediti tra ieri e oggi, è una denominazione che al pari ha chiuso in 2022 con una crescita del fatturato del valore del 17%, con un mercato nordamericano che la fa da padrone assorbendo quasi il 50% delle nostre quantità imbottigliate, delle bottiglie del gallo nero e con un segnale molto positivo che ci gratifica molto che è quello del mercato francese che sta acquisendo interesse nei confronti del nostro Chianti Classico, un mercato maturo. Affrontiamo questa 2023 con un'importante novità nei primi mesi dell'estate, quindi ci auguriamo che entreranno in vigore le unità geografiche aggiuntive su tutte le bottiglie di Chianti Classico Gran Selezione. Allora, unità geografiche aggiuntive UGA, territorio e vino, quanto è importante? Qui abbiamo The Mapman, un cartografo, quanto è importante il rapporto tra vino e territorio? Beh, è importantissimo, io credo che questo progetto delle UGA per il Chianti Classico sia un momento veramente storico per la denominazione che io riesco a paragonare soltanto all'introduzione, veramente la denominazione di origine controllata e poi successivamente garantita. Ma credo che il punto più importante sia che spesso questi progetti vengono visti solo legati al mondo del vino. In realtà non è così, perché questo progetto avrà una ricaduta sull'intero territorio del Chianti Classico, perché è un modo per salvaguardare le nostre tradizioni, per valorizzare la nostra storia. E andrei anche oltre, perché è importante non solo per il territorio del Chianti Classico, ma per l'Italia in generale, perché è fondamentale che queste denominazioni che sono storiche per l'Italia affrontino questo percorso legato al territorio. Ecco, allora oggi abbiamo detto la seconda giornata, è aperta al pubblico la collection del Chianti Classico, è San Valentino, tanti i Chianti Lovers arriveranno qua, vedete ci sono già i sommelier che stanno stappando le bottiglie, insomma una giornata importantissima, la proiezione del film sulla leggenda del gallo nero, un gallo nero che è l'etichetta che distingue appunto il Chianti Classico nel mondo, quindi vi aspettano qua alla stazione Leopolda, gli organizzatori, i sommelier, tutti gli intenditori, e quindi arrivate numerosi e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Claudia, a te e a tuoi.